Il soffio della vita tra Oriente ed Occidente La vita inizia con un soffio, il primo vagito, poi l'attività ritmica della respirazione del polmone la sostiene e l'accompagna silenziosamente per tutta la sua durata, fino alla conclusione, fino alla fine dei giorni quando si esala l'ultimo respiro. D'altra parte il polmone è l'unico organo ad avere il suo debutto alla nascita, perché nel feto, all'interno dell'utero materno, il cuore già batte, il rene drena, il fegato mobilizza, mentre proprio il polmone deve aspettare il parto per inaugurare col primo vagito il suo respiro così fondamentale per la vita. Questo fenomeno è così vero, così evidente, che da sempre tutte le antiche tradizioni associano l'inizio e il perpetuarsi della vita al respiro, al soffio. Proviamo a leggere il più antico libro che possediamo in Occidente, la Bibbia. Nel secondo capitolo della Genesi, dopo aver creato il cielo e la terra, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. E' attraverso un soffio che il Signore alita e dunque trasmette la vita che attraverso le narici si comunica all'uomo perché divenga un essere vivente. Questo soffio vitale non solo dà origine all'uomo, ma ne mantiene l'esistenza, finché ci sarà in me un soffio di vita e l'alito di Dio nelle mie narici. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere. La parola del Signore crea nel momento in cui viene pronunciata ed il soffio della Sua bocca mantiene la vita. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della Sua bocca ogni loro schiera. Questo alito del Signore non solo origina la vita, ma si identifica con l'anima, la parte più sublime dell'uomo. Dal latino anima, connesso col greco animos, soffio, vento. Dunque anche l'anima, che secondo il pensiero cristiano, ma anche di molte altre tradizioni, culture, religioni, sopravvive alla morte fisica del corpo, col quale si riunirà solo alla fine dei tempi, è un soffio. Un animos. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E' per questo che l'anima rappresenta la parte spirituale ed eterna dell'essere vivente, correlata con il corpo, ma in qualche maniera distinta dalla parte fisica. E in molte civiltà, in molte lingue, la si associa anche alla coscienza, ma anche alla personalità di ogni essere umano. Essa è spesso, anche nel linguaggio comune, sinonimo di spirito, di mente, in qualche maniera caratterizza il Dio. La nostra biomedicina sottolinea il ruolo particolarmente importante della funzione respiratoria, dunque del polmone che la governa, che insieme con quella circolatoria governata dal cuore, permette il mantenimento dell'esistenza. Se le funzioni respiratorie e cardocircolatorie sono il fondamento della vita quotidiana, lo sono a maggior ragione quando l'organismo è in condizioni critiche, e le manovre di rianimazione per mantenere la vita sono primariamente e prevalentemente respiratorie nella prima fase e subito dopo cardiocircolatorie. Ce lo insegnano i rianimatori, che iniziano quasi costantemente il loro soccorso, con l'intubazione del paziente che permette di stabilizzare la funzione respiratoria per verificare subito dopo le condizioni cardiache e sostenere il battito e la circolazione. Ma anche in Estremo Oriente il soffio possiede un ruolo fondamentale nell'origine e nel mantenimento dell'esistenza. Il termine con cui i cinesi definiscono questo soffio vitale è Qi. Si legge Qi con una Qi molto dolce che deve dare l'idea della vitalità. L'ideogramma di Qi contiene due radicali. Quello in basso e a sinistra indica il riso e rappresenta la parte materiale del Qi mentre quello in alto a destra rappresenta una voluta di vapore che sale in alto. Un soffio che si solleva e rappresenta la parte energetica di questo soffio vitale. Video di medicina Dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su Agopuntura Medicina Cinese Medicina Integrata